più nel grado dei bisogni e più me pagano infatti purtroppo per la pubblicità mi hanno già detto che pure se ho vinto il provino non me pagheranno perché siccome mi hanno detto che io questa pubblicità me la posso mettere nel curriculum non ha senso mi hanno detto che loro mi paghino proprio mettermela mettono nel curriculum il sapore della vita è fintus scusate no aspetta scusate lui è il coautore di questo spettacolo ha scritto questo spettacolo quindi scusate ma visto vi è entrato ne approfitterò per spiegarvi che tipo di spettacolo senza abbono io devo spiegare che spettacolo è che spettacolo state vedendo questo è uno spettacolo contemporaneo nel senso che lui è costantemente connesso collegato con la rete a tutto quello che succede fuori di qui contemporaneamente allo spettacolo alle 9.25 è uscito un post sul blog di uno straordinario un'economia che ha fatto tutta un'analisi sulla crisi pazzesca praticamente lui dice siccome il rublo è caduto il petrolio si è abbassato il pizzi è alzato la crisi è finita l'Italia riparte dai ma che se ti dicevi io sono entrato giustamente con dividendo il fatto che non arriviamo a fine del mese e poi tutti sono voti ma che cazzo sono stati tuoi? ma che siete matti? ma che è che parla? qua parla chiunque ormai era voto attendibile sta scherzando lo sai quanti anni ha questo blogger? no che me... un ticci anni c'è e ancora scrive gli spettacoli si scrivono fino a prova contraria magari appena vero? come te pare ma si scrive? ma no adesso c'è pensap 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 c'è una nuovissima applicazione che aggiorna i tuoi pensieri adeguandoli ai cambiamenti del mondo ti spiego praticamente pensap ti invia una notifica se qualcosa nel mondo cambia e grazie alla straordinaria funzione aggiorna rinnova i tuoi pensieri donando alla tua visione del mondo una straordinaria sensazione di... freschezza un bagno schiuma no no ok adesso noi aggiorneremo il nostro spettacolo ogni volta che qualcosa nel mondo nei prossimi minuti cambierà oddio l'unico inconveniente è che come su youtube ad ogni aggiornamento parte dalla pubblicità come noi siamo abituati aggiorna aggiorniamoci dono Roberto Garrido il Roberto Garrido non è il dos occhi la solide realtà il terremoto il terremoto allora Roberto Garrido questi benedetti cuochi che devono insegnarci a tutti i costi a fare cose che noi sapevamo fare già benissimo per conto nostro ma te lo devono fare come se tu fossi un deficiente trattandoti come un cretino e dice che poi come la porti l'acqua per la pasta tu così come cazzo la devo portare no è sbagliato devi inclinare la pentola una casca mettera stai attenta perchè altrimenti l'acqua e la pasta perdono tutte le proprietà occanolettiche dell'acqua e della parte che cazzo ne sapeva la bistecca come ammorbidescite come ammorbidesci così no devi accarci e devi buttare fuori da casa e gli vedi gli escuti dicono bella questo non era albergo rispetti che non eri e gli vedi a fare non hai capito il pepe come lo metti così no sbagliato quello giagliero del culo che pizzi il pepe deve essere comico quando lo metti nei pallini ahahahahah ahahahahah poi arriva un produttore le patatine liofilizzate fritte nell'olio di palma va da questo e gli dice se te do 45 euro non un euro di più come dici che so le patatine liofilizzate fritte nell'olio di palma dico che so' buone che piate 50 euro e comprateci quello che ti piace ecco guarda fai di vedere la versione popolare la cucina ha bisogno di audacia all'anima degli mortati su uomo gritto e patatine ma cacca tua e sicuramente la cucina ha bisogno di audacia all'anima degli mortati su grazie a tutti